Ops a tutti, miei cari Opsini e Opsine, come state? Spero molto molto bene Oggi sono qui solo per voi Per fare un video chiacchiericcio, un video parlato Visto che ho letto che vi piacciono tanto E in questo video parlato pronuncerò un po' di scioglilingua Un po' di tongue twister In ASMR Un po' in italiano e un po' in inglese Quindi, se tu sei pronto o pronta Indossa un paio di cuffie Stenditi sul tuo letto E cerca di dormire, va bene? Quindi Partiamo subito con il primo scioglilingua Ho il telefono qua sotto Ovviamente non li pronuncerò in modo veloce Quindi non saranno dei veri e propri scioglilingua Però per l'ASMR non posso pronunciarli veloci Quindi, allora, il primo che ho trovato è Caro con te Chi ti canta Tanto canta che ti canta Quindi, caro con te Chi ti canta Tanto canta che ti canta Caro con te Caro con te Chi ti canta Tanto canta che ti canta Poi Trenta Trentini Entrarono in trento Tutti e trentatré Trotterellando Trentatré Trentini Entrarono in trenta Tutti e trentatré Trotterellando Trotterellandroutrottrottrottrottrottrottrottrottrottrtrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottrottr topo 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 top topo, topo, topo topa, topa, topa topa, topa, topa topa, topa, topa topa, topa, topa Sento stanchi stanchi Sento stanchi stanchi Sento stanchi DATETETIODIEGO Quoc-no-v-guo-chi-v-v 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 Quoc-no-v-guo-chi-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v Succo di lupolo a lappa. Non li conosco, sto solo leggendo. Succo di lupolo a lappa. 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 Diping, fint, dipinto. Potete provare anche voi a vedere se riuscite a pronunciare queste scioglilingue. Tre tigri contro tre tigri. 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 3 tigri contro 3 tigri 3 tigri contro 3 tigri 3 tigri contro 3 tigri Quanti rami di rovere roderebbe un roditore? Se un roditore potesse rodere rami di rovere? Quanti rami di rovere roderebbe un roditore? Se un roditore potesse rodere rami di rovere? Questo è più lunghino. Quanti rami di rovere roderebbe un roditore? Se un roditore potesse rodere rami di rovere? Quanti rami di rovere roderebbe un roditore? Se un roditore potesse rodere rami di rovere? Quanti rami di rovere? Quanti rami di rovere? Se un roditore potesse rodere rami di rovere? Ci sono tante R qua. Porta aperta per chi porta Per chi non porta parta pur Che non importa aprire la porta Porta aperta per chi 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 porta Per chi non porta, porta pur, che non importa aprir la porta Questo mi piace Porta aperta, per chi porta Per chi non porta, porta pur, che non importa aprir la porta Dovrei aver finito quelli italiani, quindi andiamo un po' con quelli inglesi Anche qua sono cinque se non sbaglio Ho much wood Wood, I will check, check If I would check, shake, wood Ho much wood Wood, I will check, check If I would check, cool, check, wood se vuote se vuote 6 check check if a wood check could check wood how much wood would a wood check check if a wood check could check wood how much wood would a wood check check if a wood check could check wood Peter Piper picked a pack of pickled peppers a pack of pickled peppers Peter Piper picked. Questo è lunghino. If Peter Piper picked a bag of pickled peppers, where is the bag of pickled peppers? Peter Piper picked. Peter Piper picked a bag of pickled peppers. A bag of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a bag of pickled peppers, where is the bag of pickled peppers? Peter Piper picked. Peter Piper picked a bag of pickled peppers. A bag of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a bag of pickled peppers, where is the bag of pickled peppers Peter Piper picked? Questo era un po' lunghino. Green glass globes glow greenly. Green glass globes grow 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 greenly. green glass globe grow greenly green glass globe grow greenly green glass globes glow greenly sembra facile ma non lo è tanto how many cookies could a cook 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 if a good cook could cook cookies how many cookies could a good cook cook if a good cook could cook cookies how many cookies could a good cook cook if a good cook could cook cookies 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 Petty bought some butter, but said she the butter spitter. Petty bought some butter, but said she the butter spitter. Petty bought some butter, but said she the butter spitter. Petty bought some butter, but said she the butter spitter. Petty bought some butter, but said she the butter spitter. Petty bought some butter, but said she the butter spitter. Petty bought some butter. Quindi ragazzi, mi sembra sia giunto il momento di darvi la buonanotte. Quindi, cucù, cucù. Adesso tocca a voi. Iscrivetevi al canale se siete nuovi per entrare a far parte della OOPS community. E se siete dei maschietti, diventare i miei OPSini, mentre se siete delle femminucce, diventare le mie OPSine. Poi, se questo video ti è piaciuto, lascia un bel mi piace, che è sempre di supporto. E commenta qua sotto tutto, tutto quello che ti passa per la testa, va bene? Il mio canale è un posto sicuro, quindi non farti problemi a iscrivermi. Il video di oggi purtroppo finisce qua, ma se tu vuoi restare ancora insieme a me, io ti lascio di qua il mio video precedente. Di qua una mia bella list e qua, da qualche parte, il tasto per andare sul mio canale e vedere qualunque video che vogliate. Quindi, buonanotte ragazzi, buonanotte. Un bacio. E noi ci vediamo ad un prossimo video. E noi ci vediamo a tutti.